Ti aspettiamo con uno staff di eccellenza pronto ad accoglierti con un sorriso, perché noi siamo scintille! Weekend di sole e turismo in costiera amalfitana, il fine settimana della Festa della Repubblica, complice di temperature piacevoli, rappresenta anche un'occasione per vivere le bellezze in mozzafiato della costiera, immerse tra il verde della vegetazione e l'acqua cristallina nascosta nelle piccole insenature. Da sempre fioro all'occhiello del territorio campano, la costa d'Amalfi offre uno scenario unico nel suo genere che spinge ogni anno milioni di turisti a riversarsi sulle spiagge che costeggiano la strada statale 163 amalfitana. L'arteria che collega la città di Salerno con le splendide località presenti sul territorio e che costituisce però anche il punto nevralgico in cui si concentra, soprattutto nei weekend, l'intasamento causato dalle lunghe code di auto che si spostano lungo la statale. E se da un lato i sindaci della costiera amalfitana sono scesi in campo per far funzionare un sistema a mobilità ad hoc per scongiurare in futuro l'incubo del traffico, così come sottolineato anche dal protocollo d'intesa tra la regione Campania e i comuni interessati, coinvolgendoli nel grande progetto di mobilità sostenibile da 100 milioni di euro, dall'altro ci si interroga sullo stato di salute della tratta stradale. Difatti, in diverse aree, non mancano indecorosi cumuli di rifiuti, tra cui bottiglie di plastica, contenitori di vetro, cartacce, sigarette e tanto altro ancora. Un aspetto questo che deturpa la magia che avvolge la divina e che fa storcere il naso ai tanti amanti del luogo, indignati da tale spettacolo. Questa, la situazione registrata pochi giorni fa dalle nostre telecamere. L'appello dei residenti ora è diretto agli organi preposti, al fine di donare nuova dignità a questo piccolo pezzo di paradiso.